Grazie Presidente. Io volevo ringraziare il Consigliere Fassina per aver avuto l'occasione di porre l'attenzione su questo tema e su questo tragico avvenimento. Noi come Consiglio siamo favorevoli a quanto propone questa mozione e soprattutto allo spirito con cui si vuole intitolare questa via, uno spirito che sia di ricordo di questa cosa tremenda ma soprattutto con l'intenzione che queste cose non accadano più in una città che noi sappiamo essere accogliente, in una città che noi sappiamo essere generosa. Quindi è importante anche fare dei piccoli passi per arrivare a delle grandi soluzioni e questo è assolutamente un piccolo passo che non possiamo esimerci dal fare. Grazie.